salve a tutti e benvenuti a questa quarta pillola sul come organizzare il proprio account di azure devops in questa pillola parleremo della security dei del source control quindi dei repository git e del source control classico di azure devops in foundation server che è il tfvc prima di entrare però nel dettaglio andremo a fare una breve un breve riepilogo della security con questa semplice immagine che ci mostra la divisione generale del nostro account come potete vedere ho mostrato come un account si è suddiviso in tre sezioni principali la prima è la organizzazione e l'account stesso è quello sostanzialmente che racchiude tutti i vostri dati e che è completamente isolato dagli altri account dalle altre organizzazioni che potete avere quindi in questo caso dev.azure.com Gianmaria Ricci EU è un'organizzazione e è completamente distinta da eventuali altre organizzazioni che posso avere i dati di due organizzazioni non possono diciamo entrare in contatto un'organizzazione è poi suddivisa in team project che io però se ricordate le precedenti pillole ho chiamato scatole appunto proprio per togliere quel concetto quella connotazione di progetto che rende confuso una scatola è semplicemente un contenitore di work item e codice a cui aggiungiamo il tutta la parte di testing e le parti di build le pipeline in generale è un contenitore di tutto ciò che serve per il vostro progetto lo chiamiamo quindi scatola e la ragione di avere due o più scatole principalmente quella di avere due processi diversi per i work item oppure di avere proprio una distinzione molto forte tra le autorizzazioni e tra le persone che possono accedere ai dati infatti se io metto un account nella scatola A associato a un team project A non potrà vedere nulla collegato alla scatola B e viceversa ma chiaramente se un utente è messo all'interno sia della scatola A che della scatola B esso potrà vedere tutti i dati della scatola A e della scatola B e nel caso dei work item li potrà vedere anche insieme ovvero potrà fare delle query che spannano per così dire più team project più scatole vedendo quindi insieme tutti i progetti tutti i work item delle varie scatole il terzo livello è poi un ulteriore livello in cui può essere suddiviso il team project quindi la scatola in questo caso il termine del prodotto di Azure DevOps è teams ma noi lo potremo vedere più proprio come un progetto quindi la scatola A io ho fatto una suddivisione in progetto legacy e progetto unicorn sono due team ma in realtà i due progetti hanno due backlog separati e per questo ho mostrato nella precedente pillola come usare la security delle aree dei work item per permettere di segregare la visibilità dei work item appartenenti a vari progetti per far chiarezza e per ricordare come sono organizzati gli account di security all'interno della organizzazione ricordiamo che ogni scatola tra i vari gruppi ha due gruppi particolari project administrator e contributors gli administrator come potete ben capire da voi sono gli amministratori quelli che possono generalmente fare tutto nel progetto i contributors in ogni scatola in ogni team project sono invece i normali utenti del team project quelli quindi che possono lavorare con il codice con i work item con le pipeline e quindi sostanzialmente se un utente è all'interno del team contributors della scatola del team project A è chiaro che lui potrà vedere tutto quello che c'è nel team project quando andate a suddividere un team project quindi la nostra scatola in progetti con i team quello che succede è che per ogni team che voi create in questo caso il progetto legacy e progetto unicorn genereranno due corrispondenti gruppi di security all'interno di azure devops scatola slash progetto legacy e scatola A slash progetto unicorn questi gruppi di security a loro volta fanno parte di contributors e questa è la ragione per cui se voi prendete un utente Mario Rossi e lo inserite nel team del progetto legacy Mario Rossi vedrà poi in realtà anche tutti i dati del progetto unicorn questo perché entrambi i team progetto legacy e progetto unicorn appartengono a un semplice team project la scatola A e quindi il far parte di uno qualsiasi dei gruppi di security di uno qualsiasi dei team permette di vedere in generale tutta la scatola nella precedente pillola abbiamo infatti visto come usare la security delle aree per andare a risolvere questo problema sempre che questo sia un problema oggi vedremo come fare per il codice questa è la situazione attuale a sinistra ho Giovanni Bianchi ho tre repository e come vedete Giovanni Bianchi vede un repository git comune un repository del progetto legacy e uno del progetto unicorn la stessa cosa succede a Mario Rossi ora supponiamo che per noi sia importante che un membro appartenente al team unicorn project non possa vedere i repository di un altro team come facciamo? Bene, prendiamo un utente amministratore andiamo in basso a sinistra in project settings e poi sceglieremo il nodo dei repositories in questo caso prenderemo la radice dei git repository e potremo vedere che come membro di tutti i repository git abbiamo il gruppo dei contributors che possono sostanzialmente lavorare con i repository e questa è la ragione per cui Mario Rossi che è messo in uno qualsiasi di team a sua volta fa parte di contributors e quindi a sua volta accede a tutti i repository risolvere questo è facile basta prendere il nostro legacy project stoppare l'ereditarietà andare poi ad individuare il gruppo progetto legacy e vedere che in realtà lui ha una serie di permessi ereditati appunto perché fa parte del team contributors e i contributors hanno questi permessi all'interno del repository noi andiamo invece adesso a settarli esplicitamente in modo che il progetto legacy per il repository del progetto legacy abbia in realtà permessi espliciti perché una volta fatto questo noi possiamo poi andare e rimuovere i contributors in questo caso il repository legacy project può essere visto solamente dai chiaramente dagli amministratori dai membri del progetto legacy ma non dai contributors stessa cosa farete nello unicorn project stoppate l'ereditarietà cercate il corrispondente gruppo del team progetto unicorn andate a replicare in maniera ad assegnare in maniera esplicita tutti quei permessi che erediterebbe questo gruppo dai contributors per poi andare a rimuovere i contributors andiamo quindi a vedere cosa succede rifresciando facendo un bel refresh sulle pagine dove sono loggato con Giuseppe Bianchi e Mario Rossi Giuseppe Bianchi ormai vede solo common repository e unicorn project perché fa parte del progetto unicorn e invece Mario Rossi vede il common repository e chiaramente il legacy project in questo modo noi abbiamo chiaramente suddiviso le autorizzazioni per i repository Git per quanto riguarda invece il source control classico e quindi il TFVC i permessi sono molto diversi da Git per un repository Git infatti noi come avete visto possiamo mettere permessi a un intero repository o a una specifica branch mentre invece nel TFVC classico noi possiamo mettere i repository a qualsiasi cartella o addirittura file presenti nel repository per questa ragione noi potremmo semplicemente prendere la radice del nostro repository TFVC e andare a creare una folder e in questo caso la chiamiamo folder unicorn poi faremo un'altra folder e la chiameremo folder legacy io lo sto creando da un utente normale da Giovanni Bianchi tant'è vero che se io adesso faccio un refresh da parte di Mario Rossi ma anche Mario Rossi vede entrambe le cartelle ok il gioco è molto semplice l'utente amministratore cosa fa? prende la scatola A facciamo un refresh per caricare le cartelle prende la folder legacy stoppa l'ereditarietà ugualmente cerca il progetto legacy prende il progetto legacy esattamente come abbiamo fatto per il repository git andremo a imporre in maniera esplicita i permessi sovrapponendoci a tutti i permessi che ereditavamo dal contributors a questo punto togliamo il contributors dalla lista stessa cosa per la folder unicorn stoppare l'ereditarietà cercare il progetto unicorn quindi il gruppo appartenente al progetto unicorn andare ad assegnare esplicitamente tutti i permessi sopra quelli ereditati dai contributors e poi togliere i contributors tornando nei nostri due utenti bianchi e rossi che succede? eccoci qua Mario Rossi a destra vede solo la folder legacy e Giovanni Bianchi a sinistra vede solo la folder unicorn per concludere quindi anche per quanto riguarda i repository sia git sia tfwc è possibile andare a impostare una security differente per i vari team togliendo precedentemente preventivamente l'ereditarietà e togliendo il gruppo dei contributors che è quello che purtroppo vi dà accesso a tutti quanti in questo caso voi potrete separare e frazionare l'accesso ai singoli repository o alle singole cartelle del tfwc imponendo e assegnando la visibilità solo ai team che voi ritenete a cui voi volete dare l'accesso in questo modo anche per quanto riguarda il repository voi potete usare un singolo team project quindi una singola scatola e andare a suddividere gli accessi per i vari team questo conclude la nostra quarta pillola vi attendo nella prossima e se queste pillole vi sono piaciute iscrivetevi al nostro canale alla prossima ciao a tutti